Dall'alto i 580 ettari di riserva regionale di Policoro conservano ancora il fascino di un'antica foresta umida, unica nell'Italia meridionale, che oggi ha al centro un'oasi del WWF In questi dieci giorni i ragazzi vivono anche un'esperienza che va al di là della didattica, ma è proprio vivere in maniera diversa l'ambiente, quindi molti di loro capiscono che cosa significa il rispetto verso questi ambienti, quindi l'approccio di tutela anche dalla piccolazione, quindi la modifica dei comportamenti. Attività legate al turismo sostenibile che vanno dall'educazione ambientale a, come vedete, vele d'altura, quindi mini crociere di costa per vivere anche quello che è l'ambiente marino. Grazie. Grazie. Grazie.